Ciao ragazzi, ci troviamo qua ad Al Zatebrianza Abbiamo bevuto un caffè tutti quanti insieme, siamo conosciuti, stiamo facendo un mini ritrovo Vi ringrazio tutti per essere venuti quest'oggi, siete davvero tanti, non me l'aspettavo Mi fa molto piacere Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Come vedete è venuto davvero un bel biscione di Alfa Vi ringrazio tutti e alla prossima vi aspetto anche a chi oggi non è potuto venire, vi aspettiamo Ciao